Buongiorno a tutti! Ci siamo? Siamo pronti stamattina per la lezione di Total Body? Io sono qui e vi aspetto! Allora, per la lezione di oggi... Buongiorno! Ciao! Per la lezione di oggi... Ciao Tiziana! Ci servono dei manubri, ok? E un tappetino, semplicemente. Adesso si parte con la musica, io attivo, ok? Mi dite se sentite bene il volume della musica e se sentite la mia voce, ok? Provo! Allora, sentite la musica? Buongiorno Alessandro! Ciao, un bel sole! E noi siamo pronti per iniziare! Ci siamo? Ok! Allora, iniziamo come al solito con un riscaldamento al corpo libero, d'accordo? Ci siamo? Prendiamo maglia, vai! Ancora! L'ultimo! Quattro, tre, due, step dance, vai! Iniziamo a muoverci un poco per attivare il nostro corpo Comunque! Quattro, tre, due, dietro! Calore, dietro! Iniziamo al gluteo! Vai così! Quattro, tre, due, step dance! Attenzione! Attenzione! dietro! Ancora! Quattro, tre, due, step dance! Calore dietro! Step dance! dietro ginocchio su, vai, uno forza quattro, tre, due divines sinistro destro sinistro ginocchio al centro, vai, su quattro, tre, due, divines quattro, tre, due, al centro divines al centro divines attenzione, step touch, da capo pallone dietro ginocchio su divines pallone vai dietro dietro ginocchio ripitas attenzione e squat uno due pallone vai ginocchio su ginocchio su ripitas di nuovo squat uno due dietro questo affondo bravissimi bravissimi ginocchio su ripitas e squat uno due gamba dietro affondo affondo vai ripitas e ancora squat squat gamba dietro uno due laterale uno due dipintes vai e squat uno due gamba dietro uno due laterale uno due abduzione uno due di nuovo squat uno due e dietro uno due laterale uno due gamba su uno due ancora vai uno due gamba dietro uno due laterale uno due salgo su uno due l'ultimo uno due dietro uno due laterale uno due gamba su uno due e andiamo avanti allungo forza stretching statico dinamico ci siamo? bravissimi solo destra ancora vai quattro tre due di qua giù e su trovo il palmo della mano quando salgo quando scendo quattro tre due insieme quattro tre due sul posto quattro quattro tre due bacino avanti c'è altra versione siamo fudo avanti rimango qui qualche secondo quattro tre due due nove vai fatta quattro tre due e scendo giù con l'interno qui sul ginocchio gamba sinistra terza avanti quattro tre due caviglia mobilizza un po' la caviglia ok quattro tre due e vado avanti scendo giù con la schiena e salgo su vai quattro tre due sinistro facciamo a sinistra tutto bello fatto a destra volta quattro tre due sinistro chiudo altro vai così forza ragazzi ci siamo? attenzione da questa parte su quattro tre due insieme vai ci siamo sul posto uno due tre quattro cinque sei sette otto e mi fermo giù faccio sempre in retroversione in retro in retro in retro e mi fermo in retro in retro in retro Mi preparo a mobilizzare la cabiglia. Quattro, tre, due, adesso. Ci siamo? Forza ragazzi. Quattro, tre, due, e vado avanti. Schiena giù, salgo su, giù, salgo su, giù, salgo su. Quattro, tre, due, e spalle. Indietro. Ci siamo? Circonduzione. Quattro, tre, due, e vado. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ruoto bene la spalla. Vai. Insieme. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E scendo giù. Vado. Piccoli. Piccoli squat. Porto il bacino dietro. Schiena su. Ancora otto, vai. Squatza. Vai così. Quattro, tre, due, attenzione. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora. E di nuovo su. Molleggio. 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 Vai. Piccoli squat. Ancora otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E vado. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora. Forza. Quattro, tre, due. E salvo su. Improcio dietro. Vai. Destro e sinistro. Ancora. Ci siamo. Quattro, tre, due, e salvo su. Apro. Scuso. Apro. Scuso. Scendo giù. Attenzione. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Quattro. Tre, due. E salvo su. Appoglio dietro. Vai. Forza. Ancora. Uno, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette, otto. E apro. Chiudo. Chiudo. Apro. Ruoto. Scendo giù. Vai. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre. e salgo su, pausa marcia sul posto ci siamo? ciao a tutti buongiorno ragazzi, grazie forza marcia ci siamo? 4, 3, 2, 7 touch, vai riprendiamo 4, 3, 2 stallone dietro 4, 3, 2 laterale 4, 3, 2 dietro 4, 3, 2 laterale su tallone set touch tallone set touch 4, 3, 2 attenzione 2 2 set touch 4, 3, 2, 3, 2, 3, 4 2, 2, 3, 4 vai corsetta lo ripetiamo ancora vai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 corsetta 4, 4, 3, 2 4, 3, 2 ancora vai 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 vai 4, 3, 2 attenzione attenzione vai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 costetta lo ripetiamo vai 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 3, 4 vai ancora 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 vai 4, 3, 2 di nuovo vai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 attenzione 2, 3 su costetta ancora 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 giù 1, 2, 3 costetta set touch vai ci siamo? lo ripetiamo lo ripetiamo di nuovo qua la prima 4, 3, 2 vai 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 3, 4 giù costetta ancora 1, 2 vai piccoli jumping jack e ancora 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 vai giù 2, 3 su jumping jack ancora 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 3, 4 vado giù su jumping jack l'ultimo 1, 2 3 4 1, 2 3 4 giù 1, 2 3 su jumping jack e vai 1, 2 3 4 recupero ci siete? tutto bene? ciao Dani ancora vai lo ripetiamo l'ultima volta per quattro volte tutte consecutive ok pronti 4, 3, 2 si parte 1, 2 1, 2, 1 2, 3, 4 giù 1, 2, 3, su ancora 1, 2, 1 2, 1 2, 3, 4 ancora 1, 2, 3, su altri due vai 1, 2 vai su 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 giù 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 su ancora 1, 2 vai su 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 giù 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 su vai 1, 2, 3 e touch bravissimi ragazzi molto bene recuperiamo e prendiamo il nostro tappetino e i nostri manuti vai allora ci mettiamo qui voi ci siete tutto bene ci siete allora fatemi vedere si si vede bene anche per voi perfetto allora ritorniamo allora prendiamo i manubri come prima cosa e iniziamo con gli esercizi che coinvolgono sia le gambe che le braccia allora metto un bucchio avanti pronti allora manubri al centro quello che faremo è questo scendo giù ok e poi laterale laterale ok pronti 4 3 2 andiamo 1 vai ancora su vai piccolo passo laterale squat al centro e dicipiti ancora vai ci siamo ancora vai così forza ancora 1 vai 4 3 2 rimango giù solo piccoli vai salgo su vai corsetta piccola ti occupero ci siamo molto bene ancora 1 2 3 4 ancora su 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 l'ultimo l'ultimo su 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 rimango giù solo i bicipiti tengo le gambe resisto 4 3 2 sciolgo ci siamo molto bene bravissimi recupero ok possiamo l'ombre giù vado sul tappetino e mi distendo lateralmente ok in questo modo vado dalle braccia sopra la testa va bene e mi preparo per fare degli addominali o bifini ok quindi da questa posizione salgo su e poi tocco il gomito ok pronti 4 3 2 andiamo 1 2 su 2 vai su 2 su 2 ancora 1 su 2 su vai ancora su vai faccia l'ultimo vai così su su 4 3 2 e stop molto bene allora risaliamo su riprendiamo i manubri ripetiamo la sessione di prima e poi andiamo a fare gli addominali dall'altra parte ok pronti grandi attenzione 4 3 2 si va 1 2 ancora vai 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 forza agora forza Quattro, tre, due, rimango giù, solo i bicipiti Quattro, tre, due, salgo su, vai Ancora Forza Vai Vai Ancora l'ultimo E poi rimango fermo Vai Forza Quattro, tre, due, rimango giù, solo i bicipiti Quattro, tre, due, recupero Marcia sul posto Vai Ancora Ancora Vai Andiamo da questa parte Quattro, 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 tre, due, andiamo Uno, uno, due, vai Vai, chiudo, su, chiudo, su, chiudo, su, chiudo, su, chiudo, ancora, uno, su, vai Chiudo, su, 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 ancora uno, forza Ancora, ancora, vai Ancora, vai Come va Tutto bene Bene, 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 mi fa piacere Allora, controllo, controllo un attimo Perfetto Come tempi ci siamo Andiamo avanti Prendo di nuovo i manubri E passiamo all'altro blocco Allora Lavoriamo Stavolta sugli affondi, ok Andiamo un giusto l'acqua Quindi di nuovo con i manubri Ci siamo? Andremo a fare degli affondi, ok Alternati Allora, sposto da parte il staccettino Allora, alternati nel senso Prima tutti a destra E poi tutti a sinistra Non alternati insieme, va bene? Faremo questo Gamba destra avanti, ok Braccio destro su E sinistro in bicipite, ok? E poi lo faremo dall'altra parte Quattro Tre Due Andiamo Uno La scarpa mi ha fatto Attrito Vai Che bello della diretta ragazzi Corsa Non vediamo La concentrazione E stop Recupero Ora andiamo a sinistra, va bene? Pronti? Quattro Tre Due Si parte Uno Giù E su Per questo esercizio È importante La coordinazione Quindi Oltre A una presenza fisica Ci vuole anche Una presenza Mentale E per questo È facile È sbagliato Recupero Recupero Siamo? Ora lo ripeteremo Una seconda volta Forza Forza Pronti eh Quattro Tre Due Andiamo Uno Sì So È un po' più rapido Vai È stop Pronti? Ci riporto Sinistra Attenzione Quattro Tre Due Vediamo Una Due Vai Forza È stop Attenzione Quattro Tre Due Spalle e braccia Insieme Uno Su Uno Su Vai Su Vai Su Ancora Forza Forza Su 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 E ora sono gambe Uno Due Vai Attenzione Quattro Tre Due Sinistro Uno Vai Ancora Quattro Tre Due Salgo su Uno Due Uno Due Uno Due Uno Due Due Ancora Uno Due Due Uno Due Uno Due 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 A fondo Alternato 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 Uno Uno Vai Fai Forza Forza Ancora Giù 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 Quattro Tre Due Giù Giù so, 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 and guarda, so, 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 a quando va stegnando, vai, so, 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 so Ancora 4, 3, 2 E stop Ci siete? Ciao ragazzi Bene, bene Sono contenta che ci siete Allora È arrivato il momento Di fare un po' di allungamento E stretching D'accordo? Pronti? Ci sono eh? Cambio musica Allora Spero che Siete allenati In modo da poter partire Con energia E andare avanti Per tutta la giornata Love Allora Allora Andiamo giù Ok Mi stendo le gambe Avanti Vado giù Braccia dietro Ok Ci sono? Pronti? 4, 3, 2 Porto le gambe Entrambe su Ginocchio Ginocchio a petto Argancio E metto E verso l'esterno E respiro Attenzione Adesso 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 Poi Giorno A destra E su E la gamba Sinistra Va giù A terra Ok Attenzione Cambio 3, 2 E vado A destra Su 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 Forza Su Su Quattro 3, 2 E scendo giù Porto le braccia Dietro Allungo Verso l'alto Con le braccia Verso il basso Con i piedi Ok Apro le braccia Lateralmente Palmo Rivolto Verso l'alto Salgo su Con la gamba Sinistra E la porto Verso Destra La testa Da l'alto Opposto 4, 3, 2 Salgo su Vado giù Con la sinistra Salgo su Con la destra E vado E vado Dall'altra parte Testa Verso Destra Stavolta Gamba Verso Sinistra Ritorno Ok Scendo giù Fiatto Le ginocchia E salgo su E salgo su Gamba Sinistra Giù Andiamo Da questa parte Torno Gamba Destra Giù Sinistra Su Torno Torno Petto La ginocchia Vado Dall'alto Che preferisco E vado In piedi Rimango Con le gambe Tese Rimango Qui Quanto Secondo Piano 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 Salgo Su Siamo Ok Tre Respiri E concludiamo La lezione Prendo Aria Uno Due Tre Ancora Uno Due Tre L'ultimo Uno Due Tre E stop Grandi Ragazzi Abbiamo Concluso La nostra Lezione Ok Ci siamo Grazie Tiziano A te Buona giornata Ciao Ciao Richard Allora Spero Che anche voi Siete Dello stesso Colore Mio E Vi auguro Una buona giornata D'accordo Buon allenamento A tutti Per chi lo farà Indifferita Seguite Le varie Fasce orarie Dove Siamo con voi E vi mandiamo Un abbraccio Buona giornata Ciao a tutti